Nel Canavesi si trova un piccolo comune, reso noto da personaggi illustri come Filippo D'Agliè e Guido Gozzano. Le fotografie di Paolo Barosso, giornalista piemontese, rievocano la forza armoniosa di Agliè. Costruito su fondamenta romane, il castello è menzionato in alcune fonti storiografiche a partire dall'anno 1000 e non farà scalpore immaginare quante lotte tra feudatari e fazioni avverse, il borgo debba avere subito. L'intervento dei Savoia nel garantire l'influenza dei conti di Agliè su tutto il circondario accrebbe la reciproca fiducia, tanto da riceverne giuramento di fedeltà a metà Cinquecento. Molti personaggi che diedero da lì in poi prestigio al borgo, con importanti modifiche strutturali e urbanistiche. Una storia che vide anche l'occupazione napoleonica, ma che fu presto riportata a salvezza dalla figura di Carlo Felice e consorte. Parte quindi la storia fortunata del castello di Agliè, fatto di arredi magnificenti, rituali, suggestioni decorative che sfioravano i differenti e variegati gusti della corte in tema di mode del tempo. E il ritmo scandito della vita sabauda, di sala in sala percorribile e ammirabile, come se si potesse tornare indietro nel tempo e godere di una vita più dolce, distesa e rilassata, come quella trascorsa da Agliè, anche grazie al gradevole giardino a corredo della delizia. E non si può non ricordare la scelta di questa location per la serie Elisa di Ribombrosa, che, pur nella sua invenzione toponomastica, diede al borgo un tributo di popolarità non indifferente. Ringraziamo per il tributo fotografico Paolo Barosso. Le guide di Cultural Way vi aspettano per raccontarvi storie, aneddoti e pettegolezze e quant'altro possa deliziare il nostro fruitore.